Ciao a tutti e benvenuti nel quinto video dedicato al processo Johnny Depp vs Amber Heard se vi siete persi le quattro parti precedenti ve le lascio giù nell'info box perché se no non capirete tutto quello che andrò a raccontarvi e mentre parlo andrò anche a truccarmi così mi vedete fare qualcosa in generale alleggeriamo un pochino l'atmosfera vorrei fare un trigger warning come sempre se siete sensibili ad argomenti come violenza domestica o violenza sessuale che andrò ad abbreviare in BD e BS quando necessario non guardate questo video perché appunto è l'argomento di cui parleremo detto questo direi di cominciare perché è stata l'ultima settimana di testimonianze e ci sono anche state le ringhe finali quindi adesso siamo in attesa del verdetto e non si sa quando sarà questo verdetto perché la giuria può prendere tutto il tempo che necessita diciamo che entra un tempo ragionevole però comunque non è detto che arrivi magari già la prossima settimana ovviamente speriamo di sì e quest'ultima settimana ha visto le ultime testimonianze in favore alla causa di Amber vs Johnny Depp perché lui ha fatto causa lei per difamazione per 50 milioni lei ha fatto dopo causa lui per 100 milioni per la stessa ragione per delle dichiarazioni che però non sono state fatte direttamente da Johnny Depp ma dal suo avvocato Adam Wallman su alcuni giornali dopo che Amber ha finito la sua parte è iniziato il ribato che praticamente in italiano ha chiesto anche aiuto su Instagram ma chi si intende di giurisprudenza mi avete detto che si può tradurre con confutazione con controprova, contro testimonianza ovvero è quando adesso la parte di Johnny Depp il team di Johnny Depp può rispondere alle testimonianze che sono state portate a favore di Amber dopo questo c'è stato il ribato di Amber quindi dove hanno portato testimonianze contro quelle portate dal team di Johnny lo so, è infinito e complicato comunque ho qua i miei appunti quindi se riguarda per ricordarmi un attimino di cosa devo parlare perché ci sono tante tante cose quindi la giornata di lunedì è iniziata con un ortopedico con il dottor Moore che praticamente è stato chiamato dal team di Amber per testimoniare che non è possibile che il dito di Johnny che è stato tagliato in Australia sia stato tagliato come lui ha testimoniato quindi con una bottiglia lanciata che l'ha colpito mentre lui aveva la mano appoggiata a un bancone di marmo solamente che qual è stato il problema di questo testimone che lui ha mimato la cosa l'incidente in un modo diverso da come Johnny l'ha descritto e mimato quindi tutta la sua teoria è stata un po' confutata in cross-examination perché poi l'hanno fatto ammettere che invece nel modo in cui Johnny ha testimoniato poteva essere successo un altro testimone che secondo me ha fatto più danni che altro oltre al fatto che ha fatto perdere tantissimo tempo al team di Amber perché dovete sapere che ogni team ha un tempo massimo e deve usarlo molto bene e praticamente il team di Amber è arrivato alla fine con pochi minuti rimanenti mentre il team di Johnny Depp aveva ancora sette ore non lo so, secondo me abbiamo perso tanto tanto tempo dietro a questo testimone che è il dottor Spiegel che è uno psichiatra è stato chiamato per testimoniare praticamente che Johnny Depp sia un narcisista abbia il disturbo narcisistico di personalità a parte che è stato molto arrogante e sarcastico durante la sua testimonianza soprattutto durante la cross-examination ma quello l'abbiamo visto da diversi testimoni non è neanche tanto quello ed era comunque anche un po' strano però il problema è stato che lui ha basato la sua testimonianza e quindi la sua analisi e la sua diagnosi perché lui l'ha parlato come diagnosi su ciò che lui ha potuto osservare da distante perché lui non ha mai esaminato Johnny Depp non gli ha mai parlato quindi ha basato la sua testimonianza su sul fatto che lui abbia mangiato caramelle durante il processo ora se Johnny Depp ha mangiato caramelle durante il processo e quindi per questo narcisista mi chiedo io cosa possa essere perché durante il processo ho mangiato altro che caramelle ho fatto pranzi, cene, colazioni di tutto perché comunque è stato molto molto lungo e poi comunque mi sembra una dichiarazione veramente un po' assurda da fare in un processo cioè non ha basi scientifiche oltre al fatto che appunto lui ha analizzato Johnny Depp solo da distante in più ha testimoniato che lui aveva problemi di memoria dovuti al suo abuso di alcol e di droghe e questo come è stato dimostrato ha detto che lui indossava delle auricolari quando recitava perché gli dovevano dire le battute perché lui non se le ricordava in cross examination l'avvocato di Johnny Depp gli ha spiegato che in realtà questa cosa è assolutamente falsa perché lui quando aveva le cuffie sul set era per ascoltare la musica e niente quindi in generale non so, è stata una testimonianza davvero strana il dottor Spiegel ha anche detto che c'è una correlazione certa e statistica tra l'abuso di sostanze e di alcol e la violenza durante la cross examination invece poi sono arrivati a fargli ammettere che non è proprio vero cioè e che comunque se uno è se uno è alcolizzato o tossicodipendente non è per forza violento e ci sono persone violente che non sono alcolizzate e tossicodipendenti e quindi diciamo che la sua testimonianza di nuovo ha lasciato molto a desiderare è stato poi il turno dell'esperta di danni di Hollywood sempre del team Amber Catherine Arnold che ha testimoniato vabbè innanzitutto che Johnny Depp aveva già rovinato da solo la sua carriera e in realtà è stata chiamata per testimoniare il contrario quindi per fare forza al caso di Amber contro Johnny Depp ha detto che la carriera di Amber è stata rovinata dalle dichiarazioni di Adam Wallman appunto quelle di cui vi ho menzionato prima dell'avvocato di Johnny Depp perché lei ecco qua sinceramente non ho potuto fare a meno di pensare oh wow davvero l'ha detto ha testimoniato che la carriera di Amber era sulla stessa traiettoria di quella di tantissime altre star di Hollywood tra cui Jason Memoa Chris Pine e sentite sentite Zendaya insomma tutte persone che hanno partecipato a dei film paragonabili ad Aquaman il film in cui lei era coprotagonista insieme a Jason Memoa quindi come Zendaya in Spider-Man ad esempio non sono paragonabili quindi questa testimone ha basato le sue riflessioni e i suoi il calcolo dei danni su questo confronto con questi altri attori poi in Cross Examination quando le hanno chiesto di approfondire la filmografia di questi attori si è dimostrata impreparata quindi in realtà non aveva fatto i compiti e per questo di nuovo non sono riuscita a trovare la testimonianza proprio affidabile e questa è stata l'ultima a favore del team di Amber perché poi è iniziato il ribato quindi sono stati chiamati vecchi testimoni che hanno già testimoniato esperti ad esempio e nuovi testimoni prima di questo però il team di Johnny Depp ha fatto la stessa mozione di archiviazione del caso che aveva fatto il team di Amber e mentre inizialmente sembrava una cosa strana in realtà poi abbiamo scoperto che è una cosa normale è una pratica normale di chiedere l'archiviazione del caso e quindi niente l'hanno fatto anche loro perdendo la mozione ma perché comunque se c'è anche solo una scintilla di dubbio che una o l'altra parte abbia ragione si procede e si lascia comunque decidere alla giuria invece la mozione di archiviazione la decide il giudice ed è proprio difficile che vincerla è proprio una cosa che non succede mai ma da un certo punto di vista in realtà meglio così perché abbiamo potuto sentire altre testimonianze e altre dichiarazioni tra cui quella di Walter Hamada che è il presidente di Warner Brothers che è la come si chiama la compagnia che produce Aquaman e ha testimoniato che Amber non è mai stata estromessa da Aquaman il suo ruolo non è mai stato discusso in termini di non includerla più nel film ma sì che il suo ruolo è stato ridotto non per le dichiarazioni fatte da Adam Wallman ha detto che il suo ruolo è stato ridotto in realtà per la poca chimica che c'era con il protagonista Jason Memoa quindi che il loro rapporto non era il migliore sul set e quindi questo si ripercuoteva anche ripercuoteva sì vabbè si riversava anche sul film quindi dovevano un po' tappare i buchi della loro poca affinità come coppia sul set testimonio poi il dottor Calber che è il chirurgo che ha operato la mano di Johnny quando dopo l'incidente in Australia è stato chiamato per testimoniare innanzitutto le condizioni della mano e per dichiarare che lui aveva un punto metallico una graffetta nel dito i giorni successivi questa operazione che sarebbe quando è successo l'incidente delle scale in cui lui avrebbe picchiato con la mano con il gesso Amber tenendola dai capelli con l'altra mano e picchiandola dove poi lei pensava che lui avrebbe buttato giù Whitney sua sorella dalle scale Kate Moss arriviamo anche a Kate Moss tra poco e lui dice che assolutamente non avrebbe potuto fare le cose che lei dice con la mano ingessata e dolorante perché questo avrebbe sicuramente compromesso il rimarginarsi del dito sono stati chiamati diversi esperti a confutare proprio perché questa è una confutazione a confutare gli esperti chiamati dal team di Amber tra cui è stato richiamato Richard Marx che era l'esperto di Hollywood un personaggio anche molto carismatico si vede che parla proprio per esperienza quindi un testimone secondo me molto buono per Johnny che si occupa tra l'altro proprio di transazioni quindi ha testimoniato che in realtà le cose che Amber dice e che l'esperta appunto dei danni di Hollywood ha detto in realtà non sia vero cioè praticamente questo processo è un continuo un testimone dice una cosa ne arriva un altro che dice un'altra allora ritorna quel testimone che dice no ha ragione io e poi ne arriva un altro che dice no ha ragione io è un casino io non so come farà la giuria a decidere onestamente penso che in generale per la qualità dei testimoni portati il team di Johnny sia stato più incisivo onestamente perché anche in cross examination non sono stati smontati come quelli portati da Amber si sono dimostrati sempre quasi tutti molto preparati ci sono stati dei testimoni peggiori assolutamente non sono stati tutti il top però gran parte erano veramente molto credibili preparati precisi puntuali e questo sicuramente gioca in favore del team di Johnny il testimone particolare è stato Morgan Knight che era il manager di Xville ovvero questo posto dove se vi ricordate Johnny Amber erano andati per un festival se non sbaglio ed erano stati in una specie di roulotte un bungalow non so bene cosa fosse perché poi non ci sono foto di questo posto comunque è tipo un campeggio di lusso ecco quindi nella loro casettina Amber ha testimoniato che la casettina era stata completamente distrutta dopo che Johnny aveva fatto una scenata di gelosia e aveva quasi picchiato una ragazza che sembrava ci stesse provando con Amber e poi l'aveva trascinata nel bungalow e l'aveva lì insomma colpita picchiata e dopo aveva anche distrutto il camper o la roulotte insomma ecco Morgan Knight testimonia che tutto questo non è mai avvenuto che anzi lui ha visto la coppia in quei giorni e che era sempre Amber a urlargli contro si vedeva che lui era spaventato e gli ha fatto strano questa cosa perché comunque lui era molto più vecchio di lei e quindi si ricorre che gli ha fatto strano questa cosa oltre al fatto che testimonia che non è successo niente alla roulotte cioè che l'unica cosa che hanno aggiunto al prezzo finale sono stati 62 dollari per delle lampade che erano rotte però che per il resto era tutto a posto quindi se loro non hanno aggiunto dei costi al prezzo della stanza è perché non c'erano danni i testimoni nelle confutazioni quindi nel ribato possono aver visto il processo perché mentre i testimoni prima non devono aver visto niente del processo perché che se no subiscono comunque dei pregiudizi e perché loro lo sanno che verranno chiamati come testimoni magari hanno già fatto delle deposizioni precedentemente invece i testimoni chiamati nelle confutazioni vengono chiamati a sorpresa neanche loro sanno che verranno chiamati nessuno sa che verranno chiamati sono proprio tutti a sorpresa quindi quest'uomo aveva interagito magari con tipo su twitter con dei sostenitori di Johnny Depp e quindi nella cross examination hanno tirato fuori questa cosa volendo far apparire insomma che lui fosse biased quindi avesse un pregiudizio però non lo so questo non to tra l'altro è stato lui a contattare l'avvocato Camille la legale di Johnny Camille Vasquez per parlare e quindi insomma volevano farlo passare un po' come una cosa del tipo è venuto qua per la fama però senza dirglielo però tenete a mente questa cosa perché poi è venuta fuori dopo un'altra testimonianza molto attesa era quella di Jennifer Howell ovvero un'ex amica e datrice di lavoro di Whitney la sorella di Amber e appunto era attesa perché lei aveva già fatto delle dichiarazioni più volte dicendo che Whitney sta mentendo e sta mentendo per proteggere sua sorella quindi era molto attesa questa testimonianza è stata molto molto breve l'unica cosa sostanziosa che è uscita da questa testimonianza è stata che praticamente lei ha mandato una lettera a Whitney dicendole ti prego smettila di mentire per proteggere tua sorella questo era il succo e questo è quello che lei ha detto in questa testimonianza che tra l'altro era pre-registrata non è stata fatta vedere questa lettera non è stata mostrata non è stata non so neanche se sia stata ammessa tra le prove quindi non ho proprio capito il suo intervento onestamente è stato tagliato e basta è stato poi il turno della rappresentante del Children's Hospital che è l'ospedale a cui Amber avrebbe dovuto donare metà dei 7 milioni quindi 3,5 milioni perché questo è quello che lei ha dichiarato che avrebbe fatto e che anzi ha proprio dichiarato di aver fatto cioè proprio l'ha detta come una cosa fatta e finita ovviamente questa cosa non era mai successa e infatti questa rappresentante ha dichiarato che sono arrivati 250 mila dollari da una in nome di Amber Heard ma non da Amber Heard quindi loro hanno ricevuto quei soldi il problema è anche che visto che Amber ha detto ah ma io no io uso pledge and donation come la stessa parola e pledge è un impegno la donation è la donazione ok ma quando si fa un pledge si può diciamo firmare questo impegno a pagare quindi lei ha detto ah no ma io gli ho impegnati quei soldi gli ho promessi però devo ancora pagarli però lei in realtà non ha firmato il foglio del pledge quindi non gli ha davvero impegnati quei soldi non gli ha davvero promessi l'ha fatto a parole ma i fatti dicono altro e ovviamente qua ci si basa sui fatti perché se dobbiamo basarci solo sulle parole siamo finiti perché qua uno dice una cosa l'altro dice l'esatto opposto e poi arriva qualcuno che dice ancora una terza cosa c'è una terza versione di ogni praticamente di ogni situazione infatti è molto confusionario tutto quanto ma arriviamo finalmente alla testimonianza di Kate Moss attesissima sinceramente fin troppo nel senso cioè si è stato bello però ovviamente è durato il tempo che doveva durare ovvero semplicemente l'avvocato di Johnny le voleva far dire che lui non l'ha mai buttato giù dalle scale come invece Amber l'ha accusato durante la sua testimonianza no? e ovviamente la cara Kate che tra l'altro c'è la classe di quella donna è incredibile comunque Kate ha testimoniato ovviamente che non è mai successo che in realtà è stato un incidente ovvero erano in Giamaica lei stava uscendo dalla stanza e Johnny era già più avanti e praticamente questa stanza immagino fosse di quelle che esce e sei già fuori non era un albergo era tipo una casetta a parte con degli scalini davanti aveva piovuto molto la stagione dei monsoni lei praticamente è uscita ed è scivolata sulle scale battendo la schiena e quindi Johnny poi è corso incontro l'ha presa in braccio l'ha portata in camera e si è preso cura di lei quindi insomma era esattamente quello che ci aspettavamo avrebbe testimoniato Kate Moss infatti non c'è stata neanche una cross examination perché tanto cosa le dovevano chiedere soprattutto ricordiamoci che il team di Amber stava finendo il suo tempo e quindi ha deciso che non era il caso di sprecarlo insomma con Kate Moss che alla fine è un elemento abbastanza marginale in questo caso invece una testimonianza sicuramente più attesa e più utile è stata quella della dottoressa Shannon Curry che è tornata a testimoniare per confutare la testimonianza della dottoressa Hughes e che non ha fatto altro per tutto il tempo della sua testimonianza di dire la dottoressa Curry si sbaglia la dottoressa Curry non è capace cioè praticamente l'ha proprio abbastanza affossata per i suoi metodi no allora la dottoressa Shannon Curry è tornata e non ha non si è risparmiata minimamente e ha detto che la dottoressa Hughes ha mal rappresentato i risultati sia dei test che ha fatto la dottoressa Hughes sia dei suoi della dottoressa Curry infatti ha praticamente portato delle proprie opinioni e delle opinioni di Amber come dei fatti non sono dei fatti sono delle opinioni e ha spiegato che quando lei ha esaminato Amber ha voluto utilizzare dei test che sono stati sviluppati appositamente per raggirare la possibilità di esagerazione dei sintomi da PTSD che è lo stress post-traumatico proprio perché il PTSD è il disturbo più falsificato al mondo cioè un sacco di gente finge di avere il PTSD perché comunque ovviamente si hanno dei vantaggi se si viene certificati e quindi tanta gente cerca di ottenere la certificazione per ottenere quei vantaggi e quindi ci sono ovviamente sono stati fatti dei test specifici e lei ha detto che proprio da quelli ha capito che Amber stava esagerando i sintomi e che soprattutto per i sintomi che lei sosteneva di avere che quindi confermava di avere era nello stadio più alto del PTSD in una condizione che non ti permette praticamente se ce l'hai neanche quasi di riuscire a vivere di riuscire ad avere degli hobby riuscire a uscire a lavorare cioè è un disturbo invalidante il PTSD per tanta gente e quindi lei aveva tutti i sintomi più gravi mentre quelli minori che sono sempre presenti in minima parte in chi ha quelli più evidenti quelli più gravi lei non li aveva lei ha ottenuto dei risultati molto bassi in quei test è stato poi il turno di testimoniare di nuovo di Johnny e sinceramente non l'ho trovata proprio la mossa migliore perché lui è stato molto polemico quindi non mi è non mi è piaciuto nel senso alla fine niente di grave non penso che si sia danneggiato si siano danneggiati più di tanto però comunque è stata un po' una mossa un po' rischiosa anche perché ha dovuto testimoniare che lui non sapeva niente delle dichiarazioni del suo avvocato che è la ragione per cui lei sta facendo causa e ha testimoniato che è venuto a sapere di queste testimonianze quando lei ha intentato questa causa solo che essendo lui il suo avvocato c'era proprio il rischio che lui rivelasse cose tra lui e il suo avvocato che non poteva e non doveva rivelare per fortuna sono riusciti abbastanza a evitarlo per il resto ha testimoniato su Whitney lui non aveva ancora mai menzionato la sorella di Amber e ha parlato del loro rapporto ha detto che praticamente Whitney era la parte debole della coppia Amber Whitney sua sorella Amber la trattava malissimo la vista più volte essere fisicamente violenta su di lei non in maniera grave però magari lanciandole un bicchiere di vino in faccia e una volta addirittura all'inizio della loro relazione quando Amber e Whitney vivevano insieme in una casa Johnny e il fidanzato di Whitney ai tempi erano tipo andati via per lasciarle litigare perché appunto la cosa stava degenerando e questo insomma servirebbe per dimostrare che Whitney è andata a testimoniare in favore di Amber per paura di Amber durante la cross examination ovviamente hanno continuato a tirare fuori una serie di messaggi veramente abominevoli di Johnny in cui la cioè sono proprio messaggi anche molto volgari lui ha un modo molto volgare di esprimersi su questo non c'è dubbio e non è una scusante però allo stesso modo non vuol dire allora che sia una persona che picchia per esempio comunque e in questi messaggi lui dice esplicitamente tipo voglio rovinarla voglio rovinarle la carriera perché tra l'altro lui ha testimoniato di essere stato lui ad assicurarle il ruolo in Aquaman che quindi lui aveva proprio parlato con la Warner Brothers per insomma per farla accettare per farle prendere quella parte e quindi loro poi hanno detto ah è qui però si vede che voleva rovinarle la carriera quindi questo andrebbe a supporto della causa di Amber e lui però ha detto che in realtà la sua era una come dire un senso di colpa per aver permesso lui a lei di entrare a far parte di quel franchising che è Aquaman sapendo che i produttori non erano contenti di lei e quindi diciamo che voleva rimediare a questo suo errore un po' tirata come giustificazione secondo me però diciamo che non lo so alla fine questa cross examination non ha generato chissà quali danni a Johnny anche perché in realtà i messaggi che hanno fatto vedere non sono niente comparati ad altri che hanno già fatto vedere e che non sono in alcun modo giustificabili ribadisco ma non significano che lui le abbia fisicamente fatto del male e non sto dicendo che quindi la violenza emotiva non sia grave ma qua stiamo parlando di un processo per diffamazione per lei che ha dichiarato che lui che lei ha subito anzi che lei ha subito VD e VS negli anni in cui è stata con Johnny Depp c'è una bella differenza secondo me oltre al fatto che erano entrambi emozionalmente abusanti e violenti a parole entrambi lo sappiamo l'abbiamo visto in vari modi quindi diciamo che se lui lo è stato in difesa o a volte anche in attacco però il rapporto era terribile da entrambe le parti quindi non mi sento di condannare Johnny perché ha scritto certi messaggi vedendo quello che ha scritto detto lei ecco questo è il mio parere una tesiminanza che invece ha giocato abbastanza in favore di Johnny secondo me è stata quella di Morgan Tremaine che è un ex dipendente di TMZ se vi ricordate nella tesiminanza del 2016 Amber si era fatta sfuggire che TMZ che è questa rivista di gossip no scusate questo sito di gossip nel 2016 era stato allertato del fatto che lei stava andando in tribunale a richiedere l'ordine di restrizione verso Johnny il 27 di maggio lei si era lasciata sfuggire questa cosa ovviamente al team di Johnny questa cosa non era sfuggita e quindi hanno chiamato questo ex dipendente c'è stata prima una mozione di TMZ che ha cercato di non far testimoniare questa persona però è stata fatta cadere nel senso non è stata accettata quindi lui è andato a testimoniare in quanto singola persona non per TMZ ma testimoniava come se stesso e praticamente TMZ è stato anche il sito che ha rilasciato una parte del video in cui si vede Johnny che sbatte i pensili della cucina le ante della cucina proprio il 27 o il 26 di maggio e ovviamente Amber ha testimoniato che lei non ha mai rilasciato niente alla stampa non ha mai mandato video a nessuno non ha mai cercato di rovinare la reputazione di Johnny perché questo quello di cui le fanno causa ecco di averle cercato di rovinare la reputazione lei dice che non è mai successo ma pur senza fare nomi Morgan Tremaine ha detto quando loro ricevono un video non lo possono condividere fino a che non hanno il copyright quindi non hanno i diritti e i diritti li possono avere in tre modi uno se i video l'hanno girato loro se le foto sono loro due se la persona proprietaria del copyright gli cede il copyright glielo vende loro pagano e lo ricevono ma queste persone non sono le prime ad aver avuto il copyright sono persone che l'hanno acquisito quindi c'è un intermediario però questo richiede molto tempo ha detto che è una procedura che richiede molto più tempo invece una procedura che richiede pochissimo tempo è quando il video arriva dalla persona che possiede quel media quindi quel video o quella foto quando è così ci va circa un quarto d'ora a ottenere il copyright perché è una cosa appunto veloce nel senso che la persona glielo manda dicendo sì vi cedo il copyright questi lo acquisiscono e tutto questo avviene di solito sotto pagamento quindi la tesi la teoria del team di johnny è che lei abbia ricevuto dei soldi per rilasciare quel video lei sostiene che non sia così fatto sta che lui ha detto senza fare nomi quindi non ha detto Amber ci ha mandato il video ha detto che quelle sono le eventualità di cioè sono i vari modi in cui loro possono ottenere il copyright e che quando è arrivato quel video loro in un quarto d'ora l'hanno rilasciato quindi questo lascia intendere che lei è arrivato dalla persona che l'ha registrato e quel video è stato registrato da Amber sul suo telefono sul suo ipad forse quindi non lo so è stato un po' cioè comunque lei continua a negare questa cosa ma il video l'ha girato lei ed è uscito proprio il giorno prima di quando lei è andata in corte a fare in tribunale a chiedere l'ordine di restrizione in più i paparazzi sono stati allertati di quando lei sarebbe andata in tribunale il 27 di maggio e casualmente quando lei è uscita con il lato destro della faccia ben scoperto con il livido in faccia i paparazzi erano lì pronti a scattare perché? perché erano stati chiamati ovviamente non è stata Amber a chiamare TMZ e dire venite ma TMZ praticamente ha una linea diretta per le tips per gli informatori quindi è abbastanza semplice e di solito non partono finché non sono certi che la come si dice che la notizia sia verificata ecco che sia perché ovviamente non possono mandare i paparazzi a caso per cui si accertano che questa questa notizia questa informazione abbia sia praticamente certa e quindi erano certi che loro avrebbero trovato Amber Lee e sono andati a fotografarla c'è da dire che poi questo testimone ha detto forse la frase più mic drop di tutto il processo perché Elaine la legale di Amber in cross examination ha detto ah quindi lei sa che questo processo è in televisione per questo che vi dicevo prima di tenere a mente questa accusa che le persone stiano venendo a testimoniare perché ci sono le telecamere l'hanno mossa a praticamente tutti i testimoni di Johnny però comunque si sono proprio accaniti e quindi Elaine le ha detto e quindi lei è venuto qua per cercare i suoi 15 minuti di notorietà e lui le ha risposto no anche perché mettermi contro TMZ che è un'organizzazione molto litigiosa diciamo non è proprio la cosa migliore che potessi fare e comunque potrei dire cioè questa è una sua supposizione io potrei supporre la stessa cosa di lei per aver preso Amber Heard come cliente e lì di nuovo c'è stato un momento mic drop è stato poi chiamato un esperto di metadati che ha analizzato alcune foto fornite dal team di Amber e praticamente lui è arrivato per dichiarare che non c'è alcun modo di certificare per nessuno proprio non c'è alcun modo di certificare che queste foto siano autentiche siano la proprio la foto originale perché? perché sono tutte passate attraverso dei device devices diversi dal telefono di Amber nel senso che di sicuro le foto presentate non arrivano direttamente dal telefono di Amber ma sono passate attraverso degli altri devices o degli altri software diciamo lasciando intendere che potrebbero essere state modificate in più hanno finalmente fatto la sovrapposizione delle due foto che sono state presentate come due prove totalmente separate come due foto diverse e che Amber ha testimoniato che sono due foto fatte semplicemente con una luce diversa e non una non editata e l'altra editata o magari entrambe editate che invece sono la stessa visibilmente la stessa foto che sono diverse ha poi testimoniato Beverly Leonard ovvero la poliziotta aeroportuale che nel 2009 aveva arrestato Amber Heard per aver strattonato e strappato una collana dal collo dalla sua partner dei tempi Tasha Van Rie che appunto diciamo che questa cosa della della sua denuncia per violenza domestica che lei ha nel suo la sua fedina penale non era ancora stata praticamente non se ne era ancora parlato e invece appunto hanno chiamato questa testimonia questa testimone però la testimonianza anche qua è durata veramente poco io non so se sia per boh fosse per risparmiare il tempo sì sicuramente quello che gli serviva al team cioè quello che serviva al team di Johnny è stato ammesso nelle prove quindi probabilmente erano contenti così però vabbè è stata un po' sbrigativa però sì praticamente lei ha questa denuncia per violenza domestica perché ha insomma ha alzato le mani alla sua precedente compagna è arrivato il momento del ribato di Amber quindi lei allo stesso modo ha portato dei nuovi esperti o dei vecchi testimoni a confutare le nuove testimonianze del team di Johnny quindi è stato chiamato un esperto forense di computer per confutare quello l'esperto di metadati che ha detto che non si possono non c'è modo di capire quali foto siano autentiche di quelle presentate e perché soprattutto ci siano così tante versioni della stessa foto perché non dovrebbero esserci e lui praticamente ha detto che per come perché lei ha un iphone e quindi ha l'iphone ai cloud e quindi le foto vengono sincronizzate sull'ipad sul computer e tutto quanto praticamente quelle foto sono originali semplicemente sono state poi magari mandate dal computer e non dal telefono non lo so non mi è sembrato cioè io poi non ci capisco niente di tecnologia però non mi sembrava che effettivamente stesse confutando quello che ha detto il precedente esperto anche perché poi ha detto che le app che modificano le foto che magari amber può aver usato in realtà servono anche per organizzare le foto per riorganizzarle per archiviarle e solo che durante la cross examination ovviamente l'avvocato di johnny ha detto quindi le app che servono per organizzare cioè le app che servono per organizzare le foto possono anche modificarle e lui ha dovuto ammettere che sì ovviamente lo fanno quindi non so anche qua non la migliore testimonianza anche perché poi gli hanno fatto vedere le foto sovrapponibili le due foto che sono visibilmente la stessa foto ma editate una editata e l'altra forse no e lui ha detto che sono visibilmente differenti al che l'avvocato gli ha detto ok sono visibilmente differenti gli ha fatto vedere i metadati e nei dati di queste foto si vede che le due foto sono state scattate nello stesso momento quindi stessa ora stesso minuto stesso secondo e quindi alla fine anche lui ha ammesso che non c'è modo di dire quale sia la foto originale perché la domanda è stata come fa la giuria a sapere qual è la foto originale quella da tenere effettivamente come prova e lui ha ammesso che non lo possono sapere è tornata poi la dottoressa Hughes per ovviamente difendersi dalla dottoressa Carrie che praticamente l'ha affossata dicendo che non è in grado di fare il suo lavoro e quindi lei ha detto la stessa cosa della dottoressa Carrie però e quindi ha difeso tutti i test che lei ha fatto che però comunque sappiamo che sono stati riempiti in maniera molto approssimativa e sbrigativa perché erano già andati proprio avanti su tutti i test avevano guardato ogni singolo punto ogni singola parola che aveva scritto ed erano stati riempiti in maniera veramente molto sbrigativa quindi in generale non è una testimonianza attendibile di nuovo quindi sentire una che dice ah no ho ragione io boh cioè nel senso ci vorrebbe una terza parte che dice chi ha ragione anche perché sono esperti quindi uno dice come è possibile che la pensino completamente diversa che uno pensa che Amber abbia il PTSD e l'altra pensa che non solo non abbia il PTSD ma abbia il disturbo borderline e il disturbo istrionico cioè no ci sarà una via di mezzo è stato poi di nuovo il turno di Amber e onestamente posso dire che come Johnny sarebbe stato meglio se non l'avesse più testimoniato perché vabbè a parte che ormai il team di Amber aveva tipo pochi minuti di avanzo mentre invece il team di Johnny ne aveva tipo 6 ore quindi non la migliore mosso secondo me però praticamente nella direct examination quindi con i suoi avvocati lei ha parlato del fatto di quanto sia umiliata di quanto la sua carriera sia stata rovinata da Johnny e dalle dichiarazioni del suo avvocato è stata ha ricevuto minacce di ogni tipo e la cosa è sicuramente condannabile e tra l'altro ha ricevuto minacce anche su sua figlia riceve insulti viene bullizzata secondo me è terribile veramente terribile io non so come faccia venire in mente alla gente di fare certe cose comunque e sinceramente su questa cosa posso dire mi è sembrata proprio sincera il fatto che lei si senta umiliata io l'ho percepito come una cosa molto sincera ma non per come lei lo vuole far intendere ma proprio perché penso che comunque è venuto fuori di tutto in questo processo sono venute fuori tantissime cose che lei probabilmente non voleva che il mondo vedesse e quindi sono certa che su quello fosse sincera però però poi è iniziata la cross examination di nuovo con Camille Vasquez che di nuovo era parecchio era un toro che è iniziato proprio così a gamba tesa dicendo tipo le tue bugie sono state esposte al mondo e quindi per questo ti senti umiliata quindi come intro niente male poi è passata a parlare dei vari episodi di tutte le cose che sono venute fuori che la contraddicono per esempio Hicksville le ha detto è venuto qua il manager di certo non ti aspettavi che sarebbe venuto il manager di Hicksville a dire che quello che tu hai detto che tu hai testimoniato è falso e lei con tutta la nonchalance del mondo ha detto ah quell'uomo io non so chi sia io non l'ho mai visto cioè lui non c'era quindi quello che ha testimoniato è falso e quindi di nuovo torna la solita cosa tutti mentono tranne Amber Heard e questa volta l'ha proprio detto cioè lei ha proprio detto e testimoniato tutte le persone che sono venute a testimoniare o sono pagate per farlo o hanno paura di Johnny oppure lo ammirano talmente tanto che lo difenderebbero davanti a anche a tutte le prove presentate e quindi davvero lei c'è la sua la sua tesi è proprio questa tutti mentono tranne me che va bene però per esempio neanche la versione della sua migliore amica dei tempi Rocky coincide con quella fornita da lei di quell'incidente a Hicksville perché lei ha detto che non ha mai visto Johnny prendere il polso di questa ragazza non l'ha mai visto fare una scenata di gelosia nega ovviamente di aver mandato informazioni a TMZ o a giornali vari sostenendo che se avesse voluto avrebbe potuto fare ben di peggio però precedentemente aveva testimoniato che lei non avrebbe neanche saputo come fare a rilasciare informazioni a TMZ però adesso dice ah se avessi voluto avrebbe potuto fare ben di peggio anche lì non l'ho trovata una grande difesa da parte sua perché poi il problema è stato che si è proprio infervorata e quindi ha detto molto più di quanto avrebbe dovuto secondo me e infatti è stato anche lì terribile da vedere Camille che cercava di interrompere e di dirle smettere di parlare alla giuria anche perché lei appunto si girava verso la giuria e spiegava cose con competenze che non ha e quindi appunto è stato veramente terribile da guardare hanno poi fatto vedere la foto di una bottiglia che lei ha presentato come prova per due diversi episodi in due anni differenti quindi lei ha chiesto quando è stata scattata questa foto di qual episodio è una testimonianza e lei non ha saputo rispondere e ha detto mi faccia vedere i metadati così glielo dico grazie cioè dovresti saperlo ma è solo una foto di una bottiglia tra l'altro non rotta per terra una bottiglia appoggiata per terra con un po' di vino intorno voglio dire dovresti saperlo tu visto che è scattata tu questa foto e l'hai presentata tu dovresti sapere quando no e per finire Camille ha tirato fuori una foto del 28 di maggio 2016 ovvero il giorno dopo che lei è andata in tribunale con il livido in faccia e in questa foto in cui visibilmente non è truccata secondo me lei sostiene che fosse truccata cioè che se quello era il 28 di maggio allora era truccata di sicuro in quella foto non c'è niente sul suo viso non c'è assolutamente nessun livido quindi la teoria ovviamente è che lei sia andata in tribunale cioè truccandosi i lividi quindi fingendoli ecco anche perché tra l'altro se uno poi li guarda cioè guarda questo livido in faccia del 27 di maggio non è che proprio si riesca a connettere esattamente con le foto del 21 di maggio che è quando lei è stata attaccata da Johnny sarebbe stata attaccata da Johnny quindi continua ad essere un enorme casino ma siamo in la ringhe finale qua cercherò di essere breve perché alla fine hanno ripetuto le stesse cose ovviamente hanno fatto risentire da una parte e dall'altra gli audio hanno fatto rivedere le foto hanno fatto rivedere i video che supportano una causa contro l'altra essenzialmente quello che ci si aspetta da una ringa finale per Johnny ha iniziato Camille e ha detto visto che questo cioè la ringa finale è stata oggi 27 maggio 2022 l'ordine di restrizione è stato fatto il 27 di maggio 2016 quindi sono passati esattamente sei anni da quando lei gli ha rovinato la vita è stato sicuramente d'impatto questa cosa e poi è andata avanti a descrivere tutte le incongruenze di Amber ha fatto risentire l'audio in cui lei lo sfida lo sfida a dire al mondo che lui è una vittima di abusi domestici poi ha sottolineato parecchio la paura dell'abbandono che Amber avrebbe e che appunto è stata diagnosticata dalla dottressa Carri e che quindi questo l'ha portata ad essere violenta ad essere crudele a manipolarlo anche a non lasciare che Johnny se ne andasse dalle discussioni quindi per questo lo rincorreva per casa lo assillava perché lui non se ne andasse lei sostiene che lo facesse perché sapeva che lui se no sarebbe ricaduto nel circolo degli abusi delle droghe però dagli audio risulta tutt'altro dagli audio si sente lei proprio disperata all'idea che lui la lasci che lui se ne vada quindi non è perché lei non sembra che sia perché lei ha paura per lui ma sembra che abbia paura per sé che lui se ne vada e quindi la domanda è se lui diventava un mostro se lui era violento verso te quando qualsiasi volta abbiate discusso a volte anche senza discutere prima a volte perché ridevi per un tatuaggio perché avresti dovuto pregarlo di rimanere con te in un momento in cui lui ti chiede e se ci sono gli audio di questa cosa lui ti chiede di lasciarlo andare perché così si può calmare si può distrarre e può pensare dice che lei lo voleva proprio rovinare che la vera amber è quella degli audio e non quella che dice di non aver cioè praticamente lei si vende come un angelo e che quindi ogni errore è solo di Johnny e invece Camille dice Johnny ha riconosciuto tutti i suoi errori anche i più gravi anche i messaggi terribili mandati ad amici e parenti che però rimangono dei messaggi scritti e quindi che non certificano cioè non dimostrano che lui fosse fisicamente violento su di lei cosa su cui sono d'accordo dall'altro lato ci sono dei messaggi veramente veramente terribili cioè che solo una mente un po' deviata può arrivare a scrivere quindi non non è un santo lui però c'è da dire che lui l'ha messo ha sempre messo non sono un santo ho fatto cose terribili come per esempio insultarla verbalmente quando lo faceva anche lei perché poi tantissimi hanno testimonato che si urlavano proprio contro vicendevolmente però non sono mai non l'ho mai colpita e soprattutto men che meno ho fatto VS su di lei una cosa che non avevo raccontato nei video precedenti è che c'è questo quest'audio in cui lui ammette di averla di averle tirato una tessata però in realtà in quest'audio è molto decontestualizzato e comunque da quello che dice si capisce che non l'ha fatto apposta cioè si scusa proprio dicendo cioè scusami è solo che tu stavi tipo tirando la porta e io la stavo cioè sempre con lei che lo rincorreva per casa a un certo punto per sfiga si sono tipo scontrati di tessa anche dell'audio comunque sembrerebbe così e quindi questo è quello che ha ribadito Camille che quindi le volte in cui è successo che lui l'abbia colpita in realtà non era fatto apposta cioè è capitato ha parlato poi Ben Chu che è l'altro avvocato diciamo principale di Johnny che ha detto vabbè prima ha parlato della sua infanzia del fatto che comunque sua madre era una donna violenta e abusante e che nonostante questo lui l'ha accudita fino alla fine se ne è preso cura e poi ha detto in questo caso visto che lei quando ha scritto quell'articolo che è la ragione per cui sono in causa lo faceva in nome del movimento Me Too nato proprio per portare alla luce le voci di tante donne che erano state vittime degli stessi uomini quindi di uomini potenti che hanno usato il proprio potere per fare del male a delle donne e per diciamo approfittarsene lei ha scritto questo articolo supponendo quindi che ci fossero altre persone che Johnny avrebbe violentato e qui Ben Chu dice il movimento Me Too in questo caso non si applica perché nessun'altra donna né prima né dopo e mai in 58 anni di vita di Johnny Depp ha mai dichiarato che lui sia stato violento o abbia fatto anche di peggio e nuovamente ha ribadito che il fatto di abusare di alcol o sostanze non renda una persona automaticamente violenta c'è stata poi la ringa finale degli avvocati di Amber ha iniziato Rottenborn che ha devo dire che l'inizio non è stato per niente male perché praticamente ha detto il team di Johnny Depp vi vuole convincere che se una donna non ha foto delle violenze subite allora non sia mai successo e se le ha sono false se denuncia ma non ha prove allora si sta inventando tutto insomma è praticamente detto non vorrete mica essere complici di questo messaggio che stiamo lanciando al mondo si è di nuovo poi attaccato al primo emendamento che è quello del freedom of speech quindi la libertà di parola dicendo che comunque lei poteva scrivere queste cose e che se loro trovano cioè praticamente che Johnny Depp deve dimostrare di non aver toccato Amber neanche una volta per vincere questo caso ha proprio usato queste parole se il signor Depp non può dimostrare di non aver toccato Amber Heard neanche una volta allora Amber vince che mi sembra un po' contorto come ragionamento perché in realtà dovrebbe essere il contrario cioè Amber dovrebbe dimostrare che lui l'abbia picchiata e abbia fatto VS su di lei no perché se no ognuno di noi può dire ah quella persona lì è stata violenta con me e gli faccio causa per 100 milioni oppure scrivo un articolo diffamatorio e poi quella persona deve dimostrare di non averlo fatto ok sì vero però io devo anche dimostrare che lui l'abbia fatto in corte in aula e con le prove che lei ha portato viene davvero difficile da credere a tutto quanto non alla violenza emotiva emozionale e verbale quella ne abbiamo un sacco di prove ma le abbiamo da entrambe le parti quindi cioè a mio parere anche io sono per la parità dei sessi in tutto quindi non è che se lui è un uomo e la insulta è peggio che se lei donna insulta lui i tempi verbali di questa frase non hanno senso comunque avete capito no? cioè non è più grave perché lui è un uomo e non è meno grave se lei è una donna comunque sbagliano entrambi quindi a quel punto non ha ragione nessuno dei due sono entrambi violenti verbalmente ok non va bene però cosa ci devi fare però lei ha dichiarato tutt'altro lei ha dichiarato VS VD però senza poi portare le prove necessarie a queste sue dichiarazioni quindi la difesa di Amber la ringa finale del suo avvocato è proprio del tipo ah quindi se uno non ha prove allora sta mentendo automaticamente non può essere e ha ragione per carità non sto dicendo che non abbia ragione solo che poi alla fine anche per esempio nei messaggi di scuse da parte di lui o negli audio o nei video lui non ha mai ammesso di averla toccata a parte questa testata che però lui si scusa perché non l'ha fatto apposta una volta che le ha fatto male a un piede anche chiudendo una porta ha chiesto scusa perché non l'ha fatto apposta però lei in risposta le aveva tirato un pugno perché lui senza farla apposta le aveva fatto male a un piede con una porta lei le ha tirato un pugno cioè non lo so due pesi due misure non lo so comunque nei messaggi in cui lui si scusa visto che le hanno fatti vedere a profusione di questi messaggi ne hanno fatti vedere tanti anche di lei quindi appunto per quello dico cioè poi alla fine da quel punto di vista mi sento di dire che sono abbastanza allo stesso livello e si sono fatti del male entrambi e basta in quei messaggi lui parla sempre di insulti mi dispiace per gli insulti mi dispiace della persona che divento quando bevo ma non dice mai non ammette mai di averla colpita non si scusa mai di averla fisicamente danneggiata neanche una volta di tutti gli episodi che lei ha raccontato è possibile che neanche una volta lui ammetta di averlo fatto cioè è un po' strano c'è da dire che effettivamente quello che Rottenborn dice è vero lei cioè se anche se la giuria ha anche solo il pensiero che almeno una volta una sola lui l'abbia colpita di sua spontanea volontà in preda a un delirio tra alcol e droghe allora Amber vince la sua causa in teoria perché perché avrebbe ragione quindi per questo io non sono poi così certa che vincerà Johnny vedremo vedremo il verdetto io più o meno penso di avervi detto tutto quello che c'era l'importante da dire è molto tardi è venerdì sera quindi direi che se siete arrivati a questo punto del video commentate innanzitutto con la vostra opinione fatemi sapere cosa ne pensate se avete visto un pochino ancora di quest'ultima settimana non so qual è la vostra opinione voi come affronteresse come giuria questo verdetto io sarei totalmente confusa devo essere onesta perché comunque tra l'altro stiamo parlando di cifre enormi esorbitanti 50 milioni da un lato 100 milioni dall'altro quindi bisogna essere anche abbastanza sicuri di quello che si sta facendo comunque se siete arrivati a questo punto del video commentate con l'emoji di un diamante visto che mi sono messa questi strass e noi ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere se volete un video post verdetto non lo so potremmo fare un video ma si vediamo fatemi sapere se vi interessa innanzitutto e poi decideremo insieme vi auguro una buona resta di giornata io vado a editare questo video in modo che possiate vederlo il prima possibile e ci vediamo nel prossimo peace out